Di quale luce si deve fare? Gli impressionisti è la luce del sole e la luce elettrica non c'era loro era a gas più che elettrica ma insomma era artificiale allora è tutte cose che non puoi fare poi ho capito che la luce dei miei giorni era la luce colorata dell'insegna al neon dell'accezione psichedelica delle discoteche oppure la luce di Wood la luce non naturale oppure il negativo fotografico oppure la spettralità della lastra radiografica cose non naturali e quindi questo mi ha consentito di fare una cosa personalissima